Ma ha le sue eccezionali qualità, vede la porta come pochi altri. Non ci ha pensato due volte per tirare da quella distanza, ha scaricato in rete una bordata lucidiana. Con questo gol ha dimostrato di saper colpire anche da lontano un missile che è il portiere. Non ha visto nemmeno partire. Un gol questo che merita di assenso.